Ciao a tutti ragazzi, bentornati con un nuovissimo video Io sono Natascia, ma potete trovarmi su Instagram con nome di studybreak2.0 Bentornati ragazzi con un nuovissimo video Allora, prima di iniziare il video voglio dirvi che questa settimana cercherò di registrare più video che posso anche perché in questa settimana sono state richiuse tutte palestra, università, scuole, luoghi pubblici come ad esempio le piscine quindi in teoria non avrei quasi nulla da fare e ovviamente sono state chiuse per il problema coronavirus abitando io in Piemonte ed essendoci tanti casi in Lombardia che è confine col Piemonte e anche un paio di casi a Torino ovviamente questo allarmismo si è un po' esteso anche a tutte le zone del Piemonte io devo essere sincera, sono poco preoccupata nel senso che mi preoccupa la situazione, però non più di tanto cerco di seguire le regole che hanno diffuso come lavarsi spesso le mani non toccarsi con le mani magari sporche, occhi, naso, bocca lo stanno utilizzando il tossine in un certo modo insomma queste regole qua, prevenzioni, le cerco di praticarle detto questo, tornando ad essere un po' più allegri volevo fare questo video perché stamattina ho chiesto consigli a voi su Instagram chiedendovi appunto quale tipologia di video volevate vedere sul canale perché ormai sono un po' senza idee, devo essere sincera praticamente uno dei video che mi avete richiesto in tantissimi è stato i preferiti del mese, comunque i miei preferiti fino adesso e quindi il video di oggi appunto riguarderà questa categoria allora, io partirei con il mio primo preferito del mese che in realtà sono più preferiti perché sto parlando della nuova collezione di Stabilo Boss Pastel che tra l'altro ho fatto anche un video a riguardo sono queste quattro colorazioni la rosso corallo, fior di ciliegio, verde lime e azzurro nuvola queste colorazioni mi hanno lasciato senza parole perché sono davvero bellissime sono delle colorazioni che tra l'altro preferisco anche rispetto a quelle classiche le trovo molto autunnali e mi piacciono tantissimo comunque le colorazioni adesso ho saputo che si possono trovare anche in più cartellerie insomma poco alla volta le stanno inviando ovunque e tra l'altro le sto utilizzando tantissimo per lo studio di questo semestre anche se ormai appunto si è interrotto col coronavirus hanno chiuso l'università quindi io ho fatto semplicemente due lezioni e boom! non posso nemmeno dire impiego il mio tempo a preparare e a studiare la materia perché le materie sono nuove e non le ho mai seguite quindi questi evidenziatori li potete trovare in teoria nelle cartellerie però il prezzo varia ovviamente da cartellerie ad esempio io questi li ho pagati 95 centesimi in un'altra cartelleria li ho trovati 1,20 euro insomma il prezzo non è un prezzo standard volevo farveli vedere magari ok perfetto utilizzo questo foglio bianco che in realtà non è bianco ma praticamente è un foglio inerente a un articolo che ho acquistato su un sito che tra l'altro adesso non mi serve più quindi posso utilizzarlo prima di buttarlo via facendovi vedere appunto queste colorazioni che vi ricordo un po' spalsano nel video perché sembrano leggermente più scurette queste sono le quattro colorazioni meravigliose ragazzi le trovo davvero belle forse nella stabile avrei fatto altre due giusto per completare la serie però sono super super approvate secondo invece preferito del mese è l'astuccio che è questo qua del quale ho sempre fatto un video a riguardo è l'ultimo astuccio che ho acquistato su Amazon ma potete trovarlo anche su Aliexpress a molto meno il problema è che Aliexpress come Wish gli articoli vi arriveranno entro mesi anche perché su Aliex non riesco a dirlo non riesco a dire Aliexpress anche perché su Aliexpress ho acquistato degli stickers circa un mese fa e ancora ovviamente non mi sono arrivati Amazon lo trovo più sicuro come sito e quindi ho deciso di acquistarlo lì anche perché lo volevo subito l'ho pagato 13 euro e c'è in diverse colorazioni questa è quella che ho fatto io quindi un giallo polenta super bello e tra l'altro la particolarità di questo astuccio per chi già ce l'ha o comunque ho visto il video lo saprà è il fatto che qua c'è questa taschina frontale che si apre vedete con qua delle inserzioni per mettere le penne e poi comunque qua rimane aperta la bustina principale e quindi non avete neanche bisogno di aprire la taschina qua in alto infatti io non l'apro mai non la utilizzo mai questa taschina ma faccio prima prendere tutti gli oggetti qua e niente questo è il mio secondo preferito del mese super consigliato perché è capiente il giusto secondo me magari non come jumbo che per chi non sa jumbo è un astuccio un po' più grande però è super comodo e particolare terzo preferito del mese parliamo di agende ed è la mia agendina della della legami questa agendina la utilizzo solamente per quanto riguarda l'università nessun altro impegno ho deciso di prendere la piccola per comodità da mettere dentro una borsa uno zaino non ingombrava insomma rispetto a quella un po' più grande e ho deciso di prendere questa stampa qua che a me ricorda molto prima classe non so se avete presente è un marchio praticamente la stampa ha il planisfero sulle tonalità del beige marrone molto bello è un'agenda settimanale piccola che ho acquistato sul sito della legami con il 50% di sconto infatti l'ho pagata al posto di 13-17 euro e niente io la sto utilizzando sto utilizzando molto anche perché per scrivere l'essenziale per l'università io la trovo super super comoda quarto preferito del mese è sempre un'agenda però questa volta è un'agenda che utilizzo sia per gli eventi diciamo quotidiani che può essere non so l'estitista piuttosto che andare a fare una commissione non so vedere qualcuno sia per l'università ma per quanto riguarda le ore di studio e di preparazione per un certo esame sto utilizzando questa agenda qua della Life Planner che mi è stata inviata appunto dalla Life Planner stessa ho scelto di acquistarla in questo color blu notte diciamo ed è particolare perché è super soffice al tatto vellutata quasi e la sto utilizzando appunto per segnarmi magari gli esami gli impegni settimanali le ore di studio insomma sto utilizzando per questo motivo mi sto trovando super bene tra l'altro adesso vi faccio vedere una settimana tipo vedete la strutturo così per ogni impegno utilizzo un colore differente e vado per dirvi assegnare le ore di studio vedete con queste lineette qua faccio praticamente delle linee laterali dove ci sono le ore indicate per indicare quanto tempo studierò devo studiare e cerco comunque di mantenere quello che mi sono preposto di fare ovviamente non è sempre semplice però comunque utilizzare un'agenda a me facilita tantissimo il tutto mi facilita tantissimo perché comunque ho un punto di riferimento da seguire e cerco sempre di fare quello che mi stabilisco prima così da comunque avere una sorta di tabella da seguire precisamente non sempre riesco però vabbè è un buon inizio allora quinto preferito del mese invece sono questi tre bianchetti che in realtà utilizzo solo uno ma ho deciso appunto di fare la scorta ve ne faccio vedere uno per farvi capire bene si tratta di questi bianchetti dell'Osama sono dei bianchetti piccolissimi però la lunghezza del bianchetto della striscia è di 6 metri quindi diciamo che durano tantissimo infatti sto utilizzando già da un mesetto questo qua e ho deciso di fare la scorta e quindi di acquistare anche altri due bianchetti in queste due colorazioni uno giallo polenta e l'altro invece azzurrino celeste ho deciso di acquistarli perché costano poco le ho pagate mi sembra o 50 centesimi o un euro e comunque durano tanto e ho detto vabbè facciamo la scorta mi sto trovando super bene perché hanno una stesura molto uniforme del bianchetto quindi non vi trovate a non so avere dei pezzetti bianchi pezzetti che rimangono magari qua sul bianchetto che non sono stati stesi in maniera uniforme insomma super super approvato e sto utilizzando questi anche perché ho acquistato il mio bianchetto preferito che è quello vi ricordate della legami con la nuvoletta solo che preferisco finire questi prima di utilizzare quello lì perché quello secondo me è il migliore in assoluto però anche questi sono super validi e ve li consiglio allora altro preferito del mese si tratta di penne e per la precisione parlo di penne classiche quindi del color nero e blu che ho trovato recentemente nella mia cartoleria di fiducia e sono delle big classiche voi direte sì in realtà sono delle big classiche però sono particolari perché praticamente hanno cambiato il pack il packaging che è come potete notare super colorato allora io ne ho trovate di diverse colorazioni di pack ovviamente intendo perché le penne sono semplicemente blu e nera e sono tutte con queste forme geometriche super colorate i colori praticamente sono semplicemente questi verde, giallo, rosa arancione e il fatto è che queste big non sono né le crystal soft né le classiche quindi la stesura in realtà è molto molto bella perché io sono sempre lamentata delle big classiche perché hanno una stesura un po' secondo me non uniforme diciamo che quelle classiche sono molto più scostanti come stesura di inchiostro rispetto a quelle crystal soft però queste in realtà sono una via di mezzo vedete la scrittura praticamente è classica però sono comunque morbide alla stesura sono molto più fluide rispetto alle classiche mi ricordano molto le crystal soft e secondo me sono appunto come ho detto prima una via di mezzo se non diciamo adesso provo a fare un confronto con una crystal soft vediamo se riesco a trovarla una crystal soft perché non so che fine abbiano fatto allora ragazzi non riesco a trovare la crystal soft della big che tra l'altro io ero piena adesso non so più dove siano finite come al mio solito comunque vi posso assicurare che come stesura e morbidezza sono molto simili alle crystal soft nonostante il pack non sia azzurro ma appunto sia super colorato e sembra la big classica ho scoperto che ce ne sono tra l'altro di diversi tipi di big fatti in questo modo cioè con punti diverse ci sono quelle tipo quel pack arancione che hanno una stesura differente io non lo sapevo io conoscevo solo la crystal soft e la big classica bombasta e quindi diciamo che mi si è aperto un mondo comunque queste sono super super consigliate e ovviamente costano pochissimo mi sembra si sui 50 centesimi o 40 50 centesimi l'una comunque davvero poco allora ragazzi finisco col farvi vedere il mio ultimo preferito del mese e siamo in tema quaderni in tema quaderni e vi parlo di questi quaderni della Legami Milano allora io di questa tipologia di quaderni quindi ad anelli con l'elastico ce ne ho solo di due tipi questo l'ho acquistato essendo anche consapevole del fatto che costasse un po' perché l'ho pagato 6 euro 5-6 euro ed è della dimensione media perché c'è sia piccola che media che grande e il grande è quello che vi ho fatto vedere mi sembra nell'ultimo video che ho portato dietro l'università ed era una sleppatante davvero una cosa gigantesca e la particolarità dei quaderni della Legami vabbè a parte la carta che è super super valida perché è spessa quindi non trapassa niente né pennarelli né evidenziatori quindi potete notare questo tra l'altro è il quaderno di data del primo semestre e poi sono super ricchi di fogli e alla fine del quaderno abbiamo una taschina dove si possono mettere dentro magari dei fogli svolazzanti dei memo e poi altra cosa super particolare di questi quaderni è il fatto che abbiano questo se parese vogliamo chiamarlo trasparente che ho scoperto grazie a una ragazza che mi segue viene utilizzato praticamente non per tenere il quaderno rigido come io pensavo ma semplicemente come segnalibro segna quaderno diciamo in questo caso quindi per segnare fino a dove si è arrivati a scrivere in questo modo vedete questo è un quaderno super consigliato sono consigliati comunque i quaderni classici quindi quelli non ad anelli che costano leggermente meno io ne ho un paio fatto ve li faccio vedere giusto per farveli vedere ok dei quaderni classici ho preso semplicemente due varianti che è la piccola che tra l'altro questa è una ragazzi meravigliosa cioè guardate che meraviglia già solo la grafica del quaderno con questi origami sono bellissimi e poi questo invece è il quaderno medio anche questo la qualità dei fogli è spessa però la differenza con quello classico come potete notare è la quantità di fogli ovviamente qua ce ne sono meno e costa anche meno se non erro 2,95 euro 1,95 euro mentre questo dovrebbe essere 5 o 6 euro però comunque se paragonate la quantità di fogli all'interno ovviamente questo viene a costare un po' di più comunque i quaderni della legami sono super super approvati per me e niente ragazzi allora il video finisce qua questi sono i miei preferiti del mese spero di avervi non so dato delle dritte degli spunti sono cose comunque non troppo costose né eccessivamente costose diciamo a parte le agende e il quaderno della legami però secondo me una volta ogni tanto si può fare la pazzia di acquistare qualcosa di più costoso del solito e niente se il video vi è piaciuto mettete un bellissimo like qua sotto vi ricordo che potete trovarmi su instagram il link è sempre qua sotto in descrizione e niente ci vediamo con un prossimo video ciao ciao